Toscana è terra che non odia, terra di tolleranza, una Toscana che festeggia se stessa, che trova nelle istituzioni il luogo dove riconosce la propria storia, le proprie radici, la propria provenienza ed è un motivo importante per cui il Consiglio regionale dell'Ufficio di Presidenza ogni anno conferma questa ricorrenza che è la testimonianza di quanto le istituzioni regionali, quelle comunali, le scuole insieme fanno comunità, una comunità del ricordo che da oltre 300 anni, da oltre tre secoli ha prodotto un'innovazione importante, quindi l'abolizione della pena di morte è la dimostrazione di quanto la nostra è terra di cambiamento, terra di innovazione, terra anche di coraggio, coraggio dell'innovare nei diritti e nei doveri e in questo momento attuale dove noi dobbiamo garantire i diritti, fare osservare il rispetto delle regole ma introdurre delle normative che tutelano tutti noi stessi al cospetto diciamo di un contesto sociale molto liquido, molto fluido dove difficilmente si comprende dove sta la verità. Credo che il ruolo del Consiglio regionale sia ancora oggi attuale e come tale da questa festa dimostra ogni anno la propria attualità.